parca miseriazza vai vai ruggagliela giù a zero a zero Pietro a zero incredibile a zero la curvetta fagli vedere fatti a sinistra giri lì sotto e va a sinistra sotto il legno a sinistra non a destra cosa c'è bianno è scendi piano e giri piano piano ho detto no veloce così adesso torni giù col sedere se no allora la prossima volta falla così allunghi fino là in fondo e poi giri indietro allunga Vito allunga la fina là guarda è neanche così ma che arriva al pericolo occhio aspetta che mi sposto mi conviene andare via in fre passa sotto piuttosto ma è uguale di qua di là le stesse allora ma che io tiro eh ma se tu lo spingi vai hai capito che la devi togliere ormai ora porta il sedere butta il sedere di là butta il sedere di là che è entrata la marcia o piano o giri fino là e poi scendi eh e scappa un po' via eh piano però cazzo l'hai lasciata andare e ormai passa sotto tanto ci passa sì ci passa sotto lo stesso o lungo e giri là o la chiudi come ha fatto lui piano e non frena sei partito a manettone sei partito gira il culo dai così come soffre come soffre l'unico percorso per arrivare in cima un po' difficoltoso ma o questo o questo non ce n'è altri o vai lungo o la stringi eh e ormai sei sceso piano 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 ma poi non possiamo andare a pulire eh ma è già abbastanza decente eh ma è proprio brutto piano piano Grazie a tutti Grazie a tutti